Come disattivare i suoni di Windows all'avvio su Windows 10 o Windows 11. Quindi in questo caso se tu vai sul tuo sistema, quindi vai su sistema, vai su personalizzazione, vai su temi, quindi per disattivare tutti i suoi suoni su Windows vai su suoni predefiniti di, questo qua, si aprirà così questa schedina. Se ci clicchi sopra, arresto critico, avviso batteria quasi scarica, avviso livello di carica batteria a basso, come puoi vedere se hai sentito così il suono, suoni Windows background oppure puoi mettere nessuno, come puoi vedere non si sente più, è giallo, ok? È giallo. Quindi se è insopportabile qualche suono su una notifica, per esempio notifica di sistema, tipo quando apri un'applicazione e ti esce un errore, ti esce questo suono. E quindi puoi fare direttamente su nessuno e non si sente più. Però visto che a me serve, Windows background, faccio applica e fai ok. Quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia un like e che noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!